Un centrodestra unitario in vista delle prossime elezioni amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto. A invocarlo nella mattinata di ieri è stata la Lega attraverso gli esponenti Antonio Catalfamo e Matteo Francilia e non si è fatta attendere la sponda del candidato Pinuccio Calabro. Raccogliendo e accogliendo la riflessione leghista, l'avvocato penalista ha rimesso la sua candidatura nelle mani della coalizione in attesa di ricevere le giuste coordinate per poter interpretare la candidatura a sindaco dell'intero centrodestra. Calabro ha rinnovato la sua disponibilità con l'obiettivo di placare sul nascere eventuali voci di un ritiro dalla competizione elettorale barcellonese, voci frutto di un malinteso, afferma il candidato primo cittadino, o forse di una maliziosa lettura dell'intendimento di riunire le forze politiche a sostegno del governo musumeci, positivamente alleate al governo regionale e vacillanti nel progettare un programma politico forte e fruttuoso sul territorio barcellonese. Ribadendo l'integro proposito di correre per la poltrona di primo cittadino c'è però la necessità di avere un governo cittadino forte e legittimato da tutte le forze politiche del centrodestra, unite da un'azione politica cooperativa e sinergica, ha affermato ancora l'avvocato Calabro. Un segnale importante che riapre un dialogo che sembrava ormai chiuso con la candidatura dello stesso legale supportato da forze tali e lega e da quella di un altro avvocato, Elenia Torre, sostenuta da Diventerà Bellissima. A proposito di Diventerà Bellissima, rimane da capire quale sarà adesso la risposta del partito legato al presidente Musumeci rappresentato sul territorio dall'onorevole Pino Galluzzo che dovrà confrontarsi con il suo entourage. Rumors degli ultimi giorni ovviamente da verificare parlano di possibili allontanamenti di pezzi importanti anche tra quadri dirigenti locali all'interno del civico consesso. Si attende anche di conoscere quali saranno le riflessioni delle forze vicine all'onorevole Luigi Genovese e in quelle che fin qui non si sono riconosciute nella candidatura di Pinuccio Calabro? Si riuscirà a trovare l'accordo per un candidato unico o si proseguirà ancora su strade separate? Di sicuro c'è che l'emergenza coronavirus che ha portato al rinvio delle elezioni programmate a maggio potrebbe aprire nuovi scenari fino a poco tempo fa imprevedibili per i più.